Nel solco di Camillo Cavour, evocazioni storiche e artistiche dal castello di Sant'Ena, è il titolo della mostra inaugurata a Palazzo Lascaris. L'esposizione si apre con il ritratto di Luigi Fagnola e prosegue con il pannello che rappresenta la linea del tempo con le fasi principali della vita pubblica e privata del conte nato a Sant'Ena nel 1810. La mostra nella Galleria Carla Spagnuolo propone dipinti di proprietà della Fondazione Cavour di Sant'Ena che illustrano il percorso dello statista piemontese strettamente legato alla vicenda familiare e anche al Palazzo, ora sede dell'Assemblea Legislativa piemontese, un tempo abitazione del fratello maggiore Gustavo. È un percorso, un viaggio attraverso i giorni di Camillo Cavour, cioè attraverso la biografia del più grande statista dell'Italia Unita, ed è un viaggio intimo attraverso la sua famiglia, attraverso il Settecento, attraverso l'Ottocento, attraverso tutto il passaggio delle fortune e in qualche modo anche delle difficoltà di una famiglia che ha dovuto attraversare anche la Revoluzione Francese, l'epoca napoleonica, la restaurazione. Poi arriva l'Italia e qui Camillo Cavour domina, domina l'Italia e domina in qualche modo lo spazio geografico. In questo modo ricostruiamo attraverso questa mostra la vita di un personaggio e di un tempo che si spera possa essere didattica, si spera che possa essere un insegnamento per le future generazioni. Una mostra più che mai attuale per il profilo storico-politico di Cavour ma anche per la ricorrenza dell'Unità Nazionale del 17 marzo, occasione celebrata dal Museo Nazionale del Risorgimento di Palazzo Carignano che venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 marzo, dalle 10 alle 19, riapre al pubblico la Camera dei Deputati del Parlamento Subalpino che vide proprio la statista piemontese tra i suoi più assidui frequentatori. Un gioiello che fa parte del percorso del Museo Nazionale del Risorgimento, il cuore del nostro museo e che è anche il cuore della storia della nostra democrazia. In quell'aula si svolse l'attività legislativa del Regno Sardo dal 1848 al 1860 e per tre giorni all'anno, il museo la apre alla visita del pubblico per consentire a tutti di vivere davvero l'emozione di entrare dentro la storia, proprio dove la storia si è realizzata. I primi visitatori saranno gli studenti che hanno partecipato al concorso Ragazzi in Aula organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte, un concorso che permette ai giovani di imparare a formulare nuove leggi e a capire come davvero funziona la democrazia. La mostra, nel solco di Camillo Cavurro e vocazioni storiche e artistiche del Castello di Santera, rimarrà aperta al pubblico a Palazzo Lascaris fino all'11 aprile. Orario lunedì-venerdì dalle 9 alle 17. L'ingresso è gratuito.